Abbiamo fatto uno splendido giro in bicicletta, siamo partiti da Gaglianico per Cursco, circa 4.000 metri di dislivello. Abbiamo fatto tutto questo perché a Gaglianico abbiamo ormai in fase di concretizzazione in un importantissimo gemellaggio tra la nostra municipalità e altre municipalità, una portoghese, una bulgare e appunto il comune di Cursco. Il gemellaggio si chiama Sport and Health, quindi sport e stili di vita e benessere e quindi ci sembrava giusto onorare questa importante questione con un viaggio sportivo e così abbiamo fatto e così abbiamo condiviso questa bellissima esperienza. Devo dire poi che a somma di tutto questo c'è anche il fatto che abbiamo legato la nostra esperienza ciclistica con la raccolta fondi per il fondo d'otempia per la ricerca contro il cancro alla prostata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.